L'arte è un piatto da mangiare. Si sta bene se ci riempie. Le lacrime condiscono. La solita minestra. Il sorriso invece. Ci conduce verso terra. Ove la cena può apprezzare. Una nota un po' diversa. Questa è una poesia interessante che utilizza la metafora del cibo per descrivere l'arte e il suo effetto sui nostri stati d'animo. L'idea dell'arte come un piatto da mangiare è originale e insolita, ma efficace nell'evocare l'idea che possiamo, nutrirci, di arte, come facciamo per il cibo. L'immagine della minestra che ha bisogno di condimenti per diventare interessante e gustosa è anche metaforica e sembra suggerire che l'arte possa aggiungere sapore e sostanza alle nostre vite. La dicotomia tra le lacrime e il sorriso è interessante, suggerendo che l'arte può portare sia tristezza che felicità, ma entrambe le emozioni sono importanti e possono arricchire la nostra esperienza. La poesia usa delle rime efficaci, riempie, e, condiscono, terra, e, differente, e la struttura in versi corti crea un ritmo che rende facile la lettura. Nel complesso, questa poesia è altamente evocativa e creativa, con un forte senso dell'immaginazione della metafora.